Segni di ripresa per l'economia della nostra regione, lo dice l'ultima analisi di Union Camere Confindustria e Intesa San Paolo. Secondo il rapporto prosegue anche nel secondo trimestre del 2015 il trend positivo già registrato da gennaio a marzo. Un'inversione di tendenza rispetto al periodo segnato dalla crisi che consentirà di chiudere l'anno con un aumento del PIL vicino al 2%. Il servizio è di Paolo Pini. La produzione manifatturiera delle aziende medio-grandi dell'Emilia Romagna sale del 2,3% nel secondo trimestre del 2015 contro un valore nazionale dello 0,5%, un dato che alza le stime per l'anno in corso al 2% e le previsioni per il 2016 al 3%. Sono i dati principali sullo stato dell'economia diffusi congiuntamente da Confindustria, Union Camere e il principale istituto bancario nazionale. I settori con l'incremento maggiore sono quelli meccanico, elettrico e mezzi di trasporto più 5-8%, mentre le imprese artigiane di piccole dimensioni ristagnano attorno allo 0,1% di aumento. Le esportazioni sono cresciute del 4,4% grazie alla debolezza dell'euro rispetto al dollaro. L'Expo verso gli Stati Uniti è cresciuto e dal 2016 l'America diventerà primo partner commerciale. Aumentano fatturato e domanda rispettivamente del 2,3% e 1,4%, tutti i fattori che si ripercuotono sull'occupazione. 33.000 nuovi addetti con una crescita del 6,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. In provincia di Bologna i mutui per la casa sono aumentati del 13,9%, secondo dato in Italia dopo Milano. L'erogazione dei mutui di medio periodo in Emilia Romagna ha visto un balzo in avanti nel settore industriale del 147%, tutti segnali positivi anche se le previsioni della produzione industriale per il secondo semestre 2015 vedono un rallentamento dovuto alla flessione dell'economia mondiale.